Buonasera, abbiamo il nuovo lettore di Inizia a Monferrato, Fabio Covello. Buonasera, buon pomeriggio, via. Buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie. Come va quest'anno? Dal nuovo lettore è cominciata male quest'anno. Eh sì, diciamo iniziare il bienio in questo modo è un po' triste da un lato, però dall'altra parte è impegnativo perché dobbiamo tenere vivi comitati, dobbiamo fare tutta attività alternative rispetto al passato perché dobbiamo utilizzare dei mezzi tecnologici diversi e quindi per stare sempre più vicini, per fare le riunioni. Perché il mondo del Paglio va avanti, quindi dobbiamo assolutamente continuare e penso che sia anche un'opportunità, parlo per il mio comitato, di aiutare anche la città per quello che può essere utile in questo momento di sofferenza per tutti. Eh sì, le contrari sono solidarietà comuni, anche, no, soprattutto. Assolutamente sì, diciamo che dobbiamo e vogliamo avere un servizio sociale. Noi siamo, rappresentiamo la popolazione, quindi dobbiamo essere dentro la popolazione e aperta tutta la popolazione. Nel bene e nel male, ci piace, il Paglio è festa, il Paglio è comunità, è veramente festeggiare ma è anche aiutare. Quindi se c'è un momento triste dobbiamo essere tutti uniti per superare il momento e aiutarci l'un l'altro. All'interno dei borghi, rioni, comuni e contrari. Mi sembra la cosa più giusta e vera di quello che poi è, insomma, quello che è il Paglio, insomma, anche il significato associativo che hanno le contrari. Noi siamo una grande famiglia e quindi, come tutte le famiglie, devi festeggiare ma devi anche unirti quando ci sono dei problemi e quindi tutti uniti si va avanti. Il fatto è che il primo anno avrei preferito un altro esordio, però... Faremo anche il chilometro, eh? Eh! È vero? Va bene, fa niente. Allora, io poi a Nizza ho un attaccamento particolare. Uno perché è stata la contada e ha portato Carapino a Asti e ci ha vinto anche, quindi Carapino per me è una persona, è stata una persona ed è anche ora che non c'è più a cui sono attaccare in maniera particolare. Assolutamente. E ti evidenzio a mani alzate. A mani alzate, sì, sì, a mani alzate. Con Varecino. Sì. 86, giusto? 86, esattamente. E poi ho anche Orso a Nizza quando c'era il Paglio. Ah, le giostre le Borgate, sì, è vero, è vero, è vero. Ma come mai è finito poi il Paglio di Nizza? Guarda come mai, vicende, vicende di paese, vicende problematiche. Sai benissimo che il Paglio ha un costo importante. Ovviamente è duro, è duro portare avanti il Paglio e quindi piano piano si è rallentato e poi si è deciso di, purtroppo a mani in cuore, di non correrlo più. Perché comunque era veramente bellissimo. Ti dico, oltretutto io ero nello Stradino Bossola e abbiamo vinto nell'86. Tanto come inizia a Dasti, no? Quindi abbiamo ottimi ricordi di tutto quello che si correva. Purtroppo, ma sai, nel futuro non si sa mai. Perché passò dal campo sportivo dove io ci ho rimesso, non Dio quanto, perché mi si fece male una cavalla in maniera assurda e poi è passata la piazza. Sì, 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 sì. Di invece mi sono rotto due braccia. Beh, dai, mi dispiace, meglio te che cavalla. No, no, siamo d'accordo, siamo d'accordo. No, no, ma poi è bello che io non avevo nessuna colpa perché ero in testa, mi falciò da dietro, semenzato, e mi buttò in terra un cavallo di un metro e settantadue, che era una montagna. Bannata. E semenzato, rimise la cavalla per la buona. Quella cavalla che andava forte, non so se era scodata o qualcosa che va al fisco. Insomma, aveva vinto a Legnano quella cavalla lì. Tanto per fare un po' di storia, anche perché ho messo proprio ieri l'altro, la foto di Inizia, il palio di Inizia, proprio con questa cavalla purto sangue da Neè. Poi mi si fece male, purtroppo, in maniera assurda. E allora per questo mi è rivenuto in mente. No, va bene. E invece il nuovo lettore è passato dal giovane all'esperto, cioè dal Celsosimo a Togliosiri. Allora, sì, assolutamente sì. Noi ringraziamo, noi abbiamo passato tre anni bellissimi con Alessandro. L'ultimo anno è stato un palio strano, straordinario, quindi diciamo particolare. Ma due anni eccezionali prima, veramente. Antonio lo conosciamo tutti, ovviamente. È una bravissima persona, un ottimo professionista. Ci siamo trovati, ci siamo incontrati. Abbiamo trovato subito un affiatamento e da lì è iniziato il nostro rapporto. Noi sai che per tradizione abbiamo rapporti medio-lunghi con i Fantini, quindi ci piace iniziare un rapporto e portarlo avanti. Una delle prime cose che ho detto da Antonio è stato io non aspetto trent'anni per vincere il terzo palio, e te lo dico subito. Sì, perché lì sarebbe a 22 nella sua storia. Sì, 86 e 2016. Con quell'aggeggio lì, con il mio amico Verri, perché io poi ero il Fantino di Verri quando c'era il palio di Asti. Che oltrana era, non mi ricordo? Lui era il Martinetto. Martedì, io non mi sono trevendo. No, vabbè. Non li ricordo nemmeno se mi ammazzi. Quindi, e ora insomma vive il palio, sì è triste, però è dura. È dura, è dura. Sai che cos'è? È dura per noi, diciamo un po' più anziani, ma è ancora più dura per tutti i ragazzi giovani. Noi abbiamo molti ragazzi giovani che stanno crescendo molto bene, che sono nel comitato, sono negli sbandiratori, nei musici, stanno crescendo molto bene e loro scalpitano, ovviamente. e tenerli un anno un po' rallentato, un anno sospeso, è dura, è dura. Però sono volonterosi, stiamo cercando di fare attività parallele, stiamo organizzando adesso con le mascherine, stiamo cercando di dare una mano un po' a tutta la comunità e quindi loro sono l'infa vitale. Però è molto dura, è proprio dura, dura. Poi non venire a Siena, non andare in scuderie, non andare negli altri pali a vedere, è proprio dura, è dura, dura. Ma l'escursus del rettore, com'è lo valente l'inizio a Monferrari? Allora, io sono entrato nel comitato nel 2012, 2012, non 2011, perdonami. Poi dopo due anni sono entrato nel direttivo e diciamo ho imparato dai miei predecessori. Cerco, no, io tutti i giorni imparo dai miei predecessori e quindi come sono, come diciamo hai il mondo dei fantini, dei cavalli, dei rapporti, delle relazioni, di quello che succede. Poi ho avuto l'onore, il piacere, io sono stato, vabbè, sono stato vice-rettore due anni negli ultimi scorsi, gli ultimi due anni. Insieme a... Insieme eravamo io e Stefano Vaccaneo come vice-rettori, con rettore Diotti e poi da... ho avuto l'onore di avere questa carica ed è bellissimo. È esattamente come me l'aspettavo, devo dirti la verità. È bello, è emozionante, hai un bel fardello da portare, però... sai, poi uno sfrutta anche le conoscenze e le relazioni che hai nel mondo del lavoro e le metti a frutto per il mondo del paglio o per quello che fai normalmente. Ah, Diotti poi è un bel soggetto, era. Lo conosco, siamo vicini, è veramente una bella persona. No, Francesco è veramente fantastico. Poi oltretutto ha gestito in modo egregio l'anno scorso, cioè un anno e mezzo, perché poi è durata un anno e mezzo. La problematica che abbiamo avuto con tutti i sindaci, il rettore è stato un po' particolare, l'ha gestita molto bene, è grandissimo. Infatti adesso io ho la fortuna di avere tre vice-rettori, così sono ben scortato, così sono tranquillo. Sia Pierpaolo Verri, sia Francesco Diotti, sia Stefano Vaccano, che mi aiutano e mi scortano, perché ne ho bisogno. Loro hanno un'esperienza tale che è un patrimonio per la collettività e per il comitato. Diotti si è battuto tanto con questa storia del palio straordinario, fuori i comuni, ora diciamo tutti dentro. Sì, si è battuto veramente tantissimo. Beh, sarebbe stato un danno alla collettività pazzesco, pazzesco. Distruggeva sogni, distruggeva... Avrebbe veramente portato una carestia. Mentre abbiamo lottato tutti come dei leoni e tutti i rettori hanno fatto la loro parte con i vari sindaci dei comuni che li hanno aiutati molto e poi fortunatamente il sindaco di Asti ha mantenuto la parola e ha confermato che era un palio straordinario. Punto. Diciamo, 2019 straordinario. Però sinceramente quando io l'ho intervistato si capiva che sarebbe tornato a 21. Lui aveva certe idee, però poi se forse si è risolto che era bello. Poi ho visto anche un vero arrabbiatissimo. Ma sai che cos'è? Noi del mondo del palio viviamo nella storia, per la storia e per scrivere la storia. Siamo legati, diciamo, la libertà, il palio è libertà per sua natura e quindi ti dico, io il più bel ricordo che ho dell'anno scorso è la manifestazione dei comuni, quindi cioè tolto la vittoria di Cattedrale in cui gli amici di Cattedrale veramente sono felici per loro dopo 43 anni se non ricordo male hanno vinto felicissimi, felicissimi per Baldichieri che non aveva mai vinto, benissimo. Però ricordo più importante per me è la manifestazione che abbiamo fatto tutti i comuni dell'Anello, sì. E poi quello era la 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 problematica, no? Che 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 era e ora invece si dò palla di tratta sì il rettore perché la tratta è interessante saprebbe essere interessante anche come ha detto poi il rettore di Torretta non so di scusami di oddio di Tanaro di Tanaro anche sì 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 ti aveva detto ma ci potrebbe una tratta in questo in questo senso la sentita? Sì 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 assolutamente assolutamente guarda io ti devo dire la verità la tratta mi mi stimola molto nel senso che è una bella idea veramente secondo me potrebbe essere uno spettacolo dello spettacolo sicuramente un'innovazione per come la vedo molto positiva però ovviamente ci sono dei problemi logistici e organizzativi che bisognerebbe superare che bisognerebbe superare però io la vedo veramente come uno spettacolo vedo vedo veramente anche quell'alea di di caso e di fortuna di diabendata che può che può dare quel pepe in in più al palio stesso ovviamente poi sarà complessa da gestire se mai si volesse fare questo lo sappiamo anche perché siamo all'ultimo palio o uno degli ultimi pali dell'anno quindi è ancora più complessa da gestire perché sai se se tu non sei non sei certo di correre il palio per dire ad asti magari usi giustamente i cavalli e li tiri li gestisci per tutto l'anno e poi arriva settembre però è affascinante secondo me è affascinante e poi c'è il mercato dei fantini dopo sarebbe la guerra a 21 e diventa veramente una i telefoni fondono posso dirti che passeremo passeremo quattro giorni cinque a fuoco a fuoco proprio sarebbe bellissimo ti devo dire io sono mi stuzzica molto l'idea mi stuzzica molto anche proprio per il discorso che dicevi correttamente tu cioè tu pensa il moto dei fantini che si aprirebbe dietro sarebbe da sarebbe da provare poi sai finché non si prova i cambiamenti non sono mai accettati poi per l'amor di Dio puoi provare vedere perché secondo me l'unica vera vero ostacolo è l'organizzazione che è molto più complessa cioè un conte farla a Siena ovviamente le scuderie la maggior parte sono lì un conte farla ad Asti quindi cambia molto però non lo so mi affascina questa è una cosa che mi astuzia poi non volendo sto facendo un sondaggio per Rosero che nemmeno ci siamo partati anzi poi quando arriverò in fondo ci farò ci farò due parole un po' lo picco è veramente inguaiato con questa storia che lui il suo da fare il suo ben d'affare ce l'ha però noi parliamo di tutto anche il palio la gente parla dice parlate di palio come ho detto all'intervista dell'altro giorno ma perché andare al bar andare al ristorante non è festa quindi voglio dire il palio poi quindi lo lasciamo perdere se no poi senza certi sarcenti poi mi fanno arrabbiare perché non non accetto certe cose voglio dire il palio è passione economia è tutto esattamente guarda hai detto passione economia e poi posso dirti è futuro e tradizione allo stesso tempo perché vive di tradizione ma è proiettato nel futuro pensa a tutti i giovani che girano nel palio ma inizia quanto è coinvolta come come cittadina ha detto il palio guarda inizia è un po' come una parte non non importantissima della popolazione segue il palio in modo diretto però diciamo che in modo anche indiretto quindi le manifestazioni che facciamo che organizziamo e poi ovviamente la settimana del palio in città siamo seguiti assolutamente anche perché noi corriamo per la città quindi per noi noi scendiamo chiediamo la municipalità per correre la licenza di correre al sindaco noi corriamo per inizia per tutti i nicesi guarda io ho un ricordo bellissimo del 2016 se mi permetti che quando siamo tornati da Asti siamo arrivati in piazza Garibaldi la piazza principale di inizia e e siamo entrati in via Pio Corsi che è la parallela della della via pedonale e io mi ricordo che erano le nove di sera eravamo stanchissimi suonavamo e c'era tutte le persone che uscivano dalle case le arrivavano le macchine le persone che applaudivano il palio gente che piangeva è stato bellissimo è stato bellissimo poi in piazza del comune e quindi noi corriamo per inizia per tutti i nicesi e noi siamo un comitato e lo cerchiamo di dimostrare ogni anno sempre aperto a tutti a chiunque voglia voglia partecipare voglia dare il suo contributo di aiuto di passione di di colori noi cerchiamo di di affezionare tutti non solo al nome della città ma ai colori della città e questo è un problema un po' di alcuni pali dell'attaccamento ai colori ma io c'ero quella sera l'ho visto c'ero anch'io se ti ricordi sono un ciaccione io trappertutto io ho dei vuoti io mi ricordo l'intervista che ci hai fatto a caldo subito ho preso il drappo o forse non l'avevamo neanche ancora preso eravamo sotto sotto alla tribuna e sì sì mi ricordo esattamente beh ma quel giorno lì mi ricordo di secondi minuti gente che ho visto che ho salutato che è fantastico poi ovviamente la notte non abbiamo dormito noi abbiamo passato una settimana a non dormire praticamente prima di di concepire cosa veramente era successo cosa ha fatto Giovanni in l'ultima curva guarda me la me la soglia ancora Giovanni Giovanni anche lui è certo un pivello no se guardi dietro ho il quadro della vittoria con la giraffa su alto la sto vedendo la vedo leggermente sfocata ma la vedo dopo te la faccio vedere più vicino no no lasciamo stare lasciamo stare il palio di siena che sono due cose diverse senti ma quali sono le feste principali fannizza per il palio allora diciamo che noi abbiamo formalmente beh quest'anno ne avevamo organizzate sei vabbè diciamo che normalmente sono tre no scusami perdonami sono quattro il carnevale dei bambini nella settimana successiva al carnevale dove praticamente organizziamo una festa per tutti i bambini di inizia con dove veramente vedi vedi la felicità dei bambini a correre e tutto poi noi abbiamo la fortuna di avere un locale che è il Forbo Ario dove si presta tantissimo a fare a fare le feste d'inverno quindi benissimo e poi abbiamo Nizia Barbera per il quale noi abbiamo uno stand e organizziamo la diciamo la vendita di carne cruda e un po' un corner per gli amanti del palio poi abbiamo la presentazione del Fantino quest'anno ti dico solo che purtroppo è stata annullata come puoi ben immaginare eravamo a 20 giorni dalla dalla data effettuata per la presentazione di Antonio che già ripeto essendo una persona splendida e già amato da Nizia dal popolo nicese avevamo già 200 prenotazioni solo per la presentazione del Fantino e poi abbiamo la cena popliziatoria il giorno prima il giorno prima del palio e basta quest'anno avevamo ipotizzato di fare due eventi durante l'estate per gli eventi che fa il comune durante l'estate cittadina ma accantonato per ora tutto accantonato che ti ha colpito di più di Antonio Sini guarda non parlo della sua professionalità perché è un dato di fatto non posso entrare a me è piaciuto molto la sua umanità a me piace proprio come persona una persona che ancora come me la stretta di mano vale più di tutto è una persona che è molto disponibile molto molto disponibile stiamo facendo incontri virtuali anche col comitato con i ragazzi del comitato appena si potrà organizziamo per fare un altro evento con lui a Nizza è veramente una brava persona un ottimo professionista è uno che sta lavorando anche adesso in modo preciso puntuale e poi all'ambiente glielo permette io lì è fantastico adesso ha fatto no no ha una pista pazzesca ha una pista pazzesca scusa ma è veramente ma poi sai quelle cose che piacciono a pelle quando tu incontri qualcuno e dici no ma un po' guarda devo dirti è un po' come tutti i rapporti che abbiamo avuto io ho vissuto Giovanni ho vissuto Cersosimo e adesso vivo vivo Antonio ti dico tutti e tre quello che ci hanno colpito prima di tutto è l'umanità la stretta di mano l'umanità la collaborazione la partecipazione per noi è fondamentale anche la presenza a Nizza quindi per noi è veramente importante io Antonio quando gli ho detto guarda Antonio mi farebbe piacere che organizzando con i dovuti i tempi in alcuni eventi magari nella città tu fossi presente ma ha sempre detto di sì non si è mai non si è mai tirato indietro quindi ci piace moltissimo poi la mia commissione cavalli lo apprezza tantissimo molto di più perché loro e da tantissimi anni che sono nel mondo del paglio hanno la stessa lingua vuol dire insomma assolutamente assolutamente quindi io sono tranquillo sono veramente tranquillo non vedo l'ora di vederlo con la nostra casacca addosso non vedo l'ora veramente farà sicuramente bene guarda ne sono certo poi noi siamo molto affettuosi con i nostri fantini quindi no no bene sono contento che parlavamo di palio che che fare per migliorare questo palio di di asti se c'è qualcosa da fare perché non è che è organizzato male assolutamente però se c'è qualche idea o qualcosa che cambierebbe il rettore di governo di rettore governo guarda è organizzato molto bene devo dirti la verità anche le le innovazioni portate da da sindaco di asti con la presentazione dei fantini a giovedì con tutto il popolo in piazza molto molto bello diciamo che cosa potrei migliorare sicuramente sicuramente cercherei un modo per trovare un corretto equilibrio tra tempistiche necessarie al palio perché diciamo la mossa sia matura tutte le batterie le tre batterie alla finale e la diretta rai perché io condivido assolutamente che è fondamentale la diretta rai perché ci dà visibilità è importante da visibilità ad asti è veramente importante bisognerebbe trovare un equilibrio tra la tempistica e quello per non mettere in difficoltà nessuno però capisco che non è facile sono io primo a dire che è molto complesso diciamo che potrebbe essere un suggerimento e un'altra cosa potrebbe essere trovare un metodo per avvicinare per far innamorare sempre di più le persone ma questo è un po' più anche colpa nostra come rettori e come comitati far affezionare di più le persone ai propri colori è una cosa che dicono tutti che vogliono il lavoro dei lettori ma anche questo tanto puoi involgere lo so lo so infatti come ti dicevo Camillo è più anche colpa nostra cioè dobbiamo fare tantissimo anche noi soprattutto noi perché perché sarebbe veramente una svolta importante vabbè l'ultima domanda la concludiamo qui anzi due quando ha fatto il lettore e gli ha detto ai alla platea è sempre difficile eh è un ca allora prima di tutto gli ho detto che si sono impazziti prima di tutto nel senso che no ho diciamo fatto alcune promesse ho dato diciamo a caldo le linee guida di quello che avrei potuto fare con l'aiuto di tutti certamente il mio ho confermato e voglio assolutamente il mio obbligo è aprire sempre di più il comitato a tutta Nizza a tutti i nicesi cioè tutti i nicesi devono devono sentirsi parte del comitato Paglio per partecipare a una corsa che porta l'usto a tutta la città e poi ho promesso che non avrei aspettato 30 anni per portare un altro Paglio questo questo sicuramente adesso quest'anno qua facciamo che rimane sospeso e poi vedremo gli anni futuri nel senso che difficile quest'anno quest'anno difficile ci ha affermato un po' tutto poi sai anche il discorso di non poter fare feste non poter fare tutta quell'aggregazione che è è l'humus del Paglio se tu tutto l'anno non puoi farla diventa difficile poi portare gioia e portare festa quindi vedremo cosa succederà e invece la moglie ho prevolato le valigie guarda mia moglie mi manca solo quello ci mancava solo quello guarda già non mi vede praticamente questo potrebbe essere un vantaggio già praticamente non mi vede male però mi ha detto no vabbè se ti piace lo so è tutto l'unica cosa che diciamo che la mia famiglia è ben coinvolta perché ovviamente che cosa succede quando tu fai rettore il comitato ha un peso veramente importante in tutte le tue scelte durante l'anno anche private di vita propria quindi sono i tempi del Paglio che decidono cosa farai e quindi però è tanto paziente quindi meno male sono fortunato sono accontento il turista bravo senti concludendo la cosa che emoziona che emoziona che ti emoziona di più nel palco quella ti fa venire la pelle d'or è quando entro nei cavalli io allora c'è tantissime cose ma quando entrano i cavalli in pista e quando entrano in piazza e e poi quei minuti eterni ore eterne della mossa li odio e li amo allo stesso tempo li odio e li amo perché io perdo giorni di vita in quei momenti però però noi lavoriamo tutto l'anno per quello cioè vedere i cavalli entrare vedere i colori sentire l'odore sentire vedere la polvere è impagabile è impagabile vedere cadere il canapo fantastico tu sai benissimo cosa vuol dire quindi io auguro a tutti nella vita di di avere passioni così forte come abbiamo noi sono sincero perché è bellissimo soffri tanto ma gioisci moltissimo e se io dico palio come lo definisci felicità pura pura per me non c'è nient'altro di gioia oltre il palio è pazzesco tutto l'anno bellissimo allora grazie grazie a te grazie veramente cammino per tutto quello che fai per il mondo del palio sei veramente il nostro angelo custode davvero ok allora solite raccomandazioni da domani aprirà un po' di più di situazioni però ragazzi se non stiamo attenti ritorniamo nel tritello anche se io sono ottimista più pessimista o ottimista in questa storia del coronavirus? io normalmente nella vita sono molto ottimista purtroppo in questo caso non la vedo così bene io io immagino già domani l'apertura delle case per qualsiasi cosa sarà difficile gestire tu sai che noi italiani siamo siamo focosi siamo passionali quindi non ci tengono mica purtroppo però bisogna bisogna stare attenti e bisogna io sono ottimista secondo me giugno aprirà un altro mondo però ora bisogna davvero stare attenti ai rapporti interpersonali e stare attenti quando si si avvicina per evitare qualsiasi cosa quindi questo bisogna farlo perché non so che parliamo perché questo noi parliamo di palio ma c'è una tragedia che ci ha aggredito voglio dire incendere le famiglie e sono nella tristezza più totale anche perché poi sentivo anche mell'intensione non puoi salutare e non sai come ti è andato via un caro quindi anche ancora peggio no una cosa veramente triste ti fa ti fa stringere il cuore queste cose però assolutamente dobbiamo andare avanti no ecco bravissimo noi dobbiamo andare avanti non è che possiamo fermarci dobbiamo stare attenti perché questa volta non si scherza proprio per niente l'ha dimostrato non si scherza però dobbiamo andare avanti per la vita per l'economia cioè sono qua se no sta fuori è buonissimo se no abbiamo un altro problema non è con la virus e si diventa poi ancora peggio bene ancora tante grazie e come concludo sempre perché ne abbiamo bisogno un grande bocca al lupo a tutti noi grazie infinite buona giornata buona giornata a tutti e grazie ancora a Camillo ciao 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 grazie